Il campionato di serie di Gironei finisce 1 a 4 l'anticipo di oggi tra il Biancavilla e la Mezzia a termine un risultato pesante per la formazione di Mister Cozza che perde in casa per 4 a 1 infatti la società a termine della gara ha comunicato che da notte nessuno dei tesserati parlerà a termine della gara a Biancavilla alla mezza termine poi c'è il comunicato Calcio-Biancavilla rende noto che a termine della gara a Biancavilla alla mezza termine nessuno dei propri tesserati e il dirigente rilascerà a dichiarazione agli organi di formazione chiaramente questo comunicato rappresenta la delusione per la sconfitta per 1 a 4 una sconfitta molto pesante